Questa notte personale della Polizia di Stato, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia e del Comando di Polizia Locale ha tratto in arresto un 31enne, residente ad Ebole, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. A seguito di perquisizione domiciliare eseguita in località Corno d'Oro nel Comune Bolitano, il giovane è stato trovato in possesso di circa 120 grammi di marijuana occultata all'interno di 5 contenitori, oltre ad un bilancino digitale e una somma di denaro ritenuta il provento dell'attività di spaccio. L'incensurato è stato dichiarato in arresto e il Pubblico Ministero di Turno, presso la Procura della Repubblica, ha disposto l'indagato che venisse collocato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa della successiva convalida d'arresto che si terrà dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno.